La vita a volte ci presenta delle sfide inaspettate. Una di queste può essere l'incontinenza urinaria. Che si tratti di gravidanze, malattie infantili o in età adulta o semplicemente il passare del tempo, questi sono i momenti in cui è richiesto il nostro supporto. Per più di 20 anni noi di Seni abbiamo affrontato questi ostacoli e siamo sempre presenti per mantenere e proteggere i comfort essenziali della vita quotidiana. Quando il senso di isolamento ti assale e occorre una ventata di normalità, noi siamo lì con la conoscenza, il supporto ed i nostri prodotti di qualità. Siamo stati i primi ad introdurre un'intera linea di prodotti usando il laminato traspirante, uno strato esterno che consente la libera circolazione di vapore acqueo, riducendo il rischio di pelle irritata, sfregamenti e piaghe da decubito. Comprendiamo l'importanza del giusto comfort ogni giorno. I prodotti Seni combinano l'alto livello di assorbenza con la garanzia di discrezione assoluta. Inoltre i prodotti assorbenti sono estremamente vari e pensati per ogni esigenza. Abbiamo introdotto dei prodotti complementari per la cura della pelle, Seni Care, offrendo così una linea completa che ci permette di concentrarci su un altro aspetto fondamentale, la comodità. Consideriamo di vitale importanza che tutti i nostri prodotti siano facili e confortevoli da usare, sia per l'utente finale che per chi se ne prende cura. Seni si impegna a prendersi cura non solo dei nostri clienti, ma del mondo che condividiamo. L'alta assorbenza dei nostri prodotti ne implica un uso limitato e quindi meno rifiuti. Maggiore compressione, senza sacrificare qualità o assorbenza, significa più confezioni in un singolo cartone ed ottimizzazione delle consegne, principale causa di inquinamento dell'aria. Il riconoscimento del marchio Seni nel mondo è sia un onore che una sfida. I prodotti Seni hanno raggiunto più di 60 stati. Sfruttiamo decenni di esperienza, moderne soluzioni tecnologiche e continua ricerca per fornire la miglior qualità di prodotti e soddisfare i clienti più pretenziosi. Spinti dalla voglia di prenderci cura di chi ha più bisogno, accettiamo la sfida di garantire dignità, comfort e salute a tutte le persone con incontinenza. Seni, creato con passione per una vita migliore.